Ok Si liberavano così di noi Quindi Il prete faccia per me non di sermone Sul fatto che Già da ragazzi suonassimo musica Avessimo falsi idoli E quindi niente L'era veramente convinto Che saremmo finiti all'inferno Quindi Ho scritto un vero di risposta Al mio buon prete Sul fatto che Alla fine la musica Non ha confini e limiti Non dà appunto Occasione di Sbagliare Mentre il fatto Che qualcuno dica Quello che è giusto e sbagliato Ma il prete faceva Quello Mi sa che Un po' la via sbagliata Non si Un po' la via sbagliata E poi Mi sa che Un po' la via sbagliato E poi E poi Mi sa che Mi sa che Un po' la via sbagliato no Il suo messo in tecno, il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.